Ok, siamo saliti sulla canoa e adesso ci stiamo inoltrando per le grotte di Napangan. Ecco, siamo io e Simone. Pericolosissimo. Pericolosissimo, soprattutto per la mia gamba salire qua sopra, ma con una tattica nuovissima non sono riuscita a salire, adesso stiamo inoltrando in una grotta. Allora, non so bene come sarà questa grotta, ma so solo che hanno le luci, le lanterne. Ok, stava entrando, filmeremo tutto. E secondo me questo video non ce l'ha nessuno, ce l'avremo solo noi su cadillactrip.it. Eccoci nella grotta. No, ce l'ho capito perché ci hanno dato le busse per la macchinetta e ce l'avremo. Perché magari... Eccoci nella grotta. Guardate in che posto siamo. Oh, alletteggia troppo. E qua diventa sempre più piccolo. Sempre più piccolo e sempre più buio. Forse è per questo motivo... Allora, diventa sempre più buio e io qua... Attenta la testa, Simone. Ecco, vediamo. Ecco, ci hanno dato una luce. Se ne cazzo. Guardate che grotta... Cioè, guardate. Non so quello che si riuscirà a vedere da queste parti. Però siamo in una grotta molto bassa. E' un'altra cosa. Si? Guardami un attimo quella luce. Non so quello che si riuscirà a vedere. Non so quello che si riuscirà a vedere. Oh, l'acqua, ecco l'acqua, ecco. Ecco. Eh, ma stiamo uscendo in un posto che... Che a quanto pare è... Allucinante. andate che spettacolo questo posto merita la grotta attraversa l'intero isolotto e poi dopo ecco la Baia e adesso faremo il giro qui delle varie incinerature poi dopo torneremo indietro vai giratevi giratevi eccoci di nuovo qui adesso stiamo entrando nella caverna di Hunk Island in inglese Room Island qui dentro troveremo una zona paludosa, loro la chiamano la laguna eccoci qui acqua sempre del colore verdastro questi sono posti unici in inglese 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 differenti di Hunk Island che si entra dalla laguna qui c'è una zona che è una zona trappico elevato Vieni, vieni, vieni Non è buono senza autista Beh Perché qui in questo caso c'è la possibilità di prendere un meno autista E si vede Io non vado senza autista e infatti sono incornati con tutte le salattie Qui Per la piazza Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni, vieni Eh ma se la gente non si è sposta da qua, come facciamo ad entrare? Thank you Non sapevo se prendevamo... Occhio! Stavo in pizza No, più che altro il signore qua lo stanno infizzando Nooo Dai, l'amore, 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 l'amore Stavo 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 Hai capito a te il cimordo eh? Eh? Hai capito, si Stavo 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 Poco Sì Grazie.